A Rialmonte si è svolto il primo incontro della terza edizione della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio organizzata dal professor Luciano Carrubba e promossa dall'amministrazione comunale preseduta dal sindaco Sabrina Latuca. E' stato rievocato Leonardo Sciascia e il suo tempo attraverso le due pubblicazioni dello scrittore Enzo Sardo, Regal Petra e le sue parrocchie e Leonardo Sciascia, il vero Nobel della cultura europea. Con i relatori i professori Zino Pecoraro e Giovanni Tesè. La serata è stata arricchita dai contributi delle rappresentanti delle sezioni locali del CIF e della FIDAPA, dalla poetessa Giuseppina Mira e da interventi musicali. La terza edizione della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio. Questa sera si inizia con la presentazione di due testi di Enzo Sardo. Che dire, la memoria ha lo scopo di valorizzare il territorio attraverso la cultura e attraverso la bellezza di un territorio unico, con dei paesaggi, dei promontori magnifici. Stasera si parla di Leonardo Sciascia e quindi della nostra identità, della nostra sicilianità. Io, pertanto, non posso che manifestare tutta la mia soddisfazione da sindaco di un comune meraviglioso che anche quest'anno è riuscita a fare, programmare un cartellone estivo vario per tutte le età, per tutti i gusti, dove hanno trovato spazio le attività delle varie associazioni, le attività della parrocchia, le attività culturali, la promozione del territorio, le attività per i giovani, dove tutti quanti in un arcobaleno, in un abbraccio virtuale, in una squadra, abbiamo dato voce ad un intero territorio. Questa sera stiamo presentando, in questa bellissima terrazza del Real Monte, due dei miei libri che sono legati al tema generale che ha posto questa città, ossia la memoria e il patrimonio. E due libri che fanno riferimento a questo concetto, uno si chiama Leonardo Sciascia, il vero Nobel della cultura europea, e un altro che si chiama Regalpente e le sue parrocchie, che ho scritto per il sessantesimo anniversario dall'uscita del libro Le parrocchie di Regalpente di Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia nel suo libro dice i ragazzi andavano a scuola mal vestiti e malnutriti, io dopo 60 anni nel libro faccio un baragone di natura culturale, sociale, pedagogica ed economica di che ragazzi vanno a scuola ben vestiti e ben nutriti. Nel libro di Leonardo Sciascia le mamme portavano il bastoncino al professore per educare i loro figli, invece dopo 60 anni le mamme vanno a scuola per litigare spesso con gli insegnanti. E questo è uno dei due. L'altro, Leonardo Sciascia, il vero Nobel della cultura europea, è una visione di un Sciascia pubblico, delle cose che Sciascia ha fatto durante la sua vita, della promozione culturale che ha animato, ha racalmuto, per esempio ha voluto stimolare l'apertura del teatro. Continua un percorso che vuole valorizzare il concetto di memoria e il concetto di patrimonio nel nostro tessuto sociale. Ed oggi iniziamo con l'analizzare la figura di Leonardo Sciascia attraverso il suo autore Enzo Sardo, il quale presentiamo oggi due libri, Regalpetre e le sue parrocchie, e Leonardo Sciascia, il vero Nobel della cultura europea. Grazie. 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 Grazie.